Nel 2013, quando ero un giovanotto, sembrava che dovessi collaborare con... ...e mi avevano chiesto di fare dei video su dei personaggi del mondo del calcio. Così ho fatto la bozza di un video che riassumeva la vita di Ronaldo. È un video che ho sull'hard disk da un sacco di anni e che non so che cosa farci, quindi ve lo faccio vedere, anche se non è finito, è solo una bozza. Eccolo qua! Storia quasi vera di Ronaldo. Ronaldo Luis Nazario de Lima, anche conosciuto semplicemente come Gino, Nasce il 22 settembre 1976 a Rio de Janeiro, nella Germania orientale. Viene allevato da una famiglia di draghi ed è grazie a loro che scopre quello che diventerà il suo sport preferito, la pallavolo. Un giorno, andando ad allenamento di pallavolo, sbaglia la fermata dell'autobus e si ritrova ad un allenamento del Cruzeiro, una squadra di calcio di Rio de Janeiro. Scopre che il calcio non è così diverso dalla pallavolo e men che non si dica diventa bravissimo a fare gli swing col putter. Talmente bravo che il re dell'Olanda se ne innamora e lo spedisce a giocare nel Philips Sport Vereniginig. La sua prima squadra europea. Durante le sue due prime stagioni nel PSV segna 54 gol in 57 incontri, 42 dei quali in campionato e i restanti 12 su FIFA 96 per il Super Nintendo. Nel 96 fu ceduto al Barcellona per 20 milioni di dollari, la stazione sud e parco della vittoria. In Spagna vince il primo trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe, che era un gelato grandissimo. Ronaldo prova a mangiarsi la Coppa delle Coppe da solo, ma gli viene un gran mal di pancia e viene ricoverato in ospedale. Lì incontra Massimo Moratti, presidente dell'Inter e futuro ministro dell'istruzione. Fanno una scommessa che Ronaldo non avrebbe mai indovinato in che mano Moratti teneva 500 lire. Ronaldo rispose che sono nella mano destra, invece erano nella sinistra. Ed è così che Ronaldo passa all'Inter. Nella sua prima stagione segna più di un milione di gol a partita. E infatti vince il pallone d'oro. Poi però, il 21 novembre 1999, prova a fare una partita con il suo nuovo pallone d'oro e si rompe un piede perché era durissimo. Quando il piede gli ricresce, torna a giocare segnando tanti gol, ma sbagliando porta. Così l'Inter non vince il campionato. Viene nel 2002 acquistato durante i saldi dell'Inter del Real Madrid. Poi va a Madrid e scopre che era uno scherzo. Il Real Madrid non esisteva, era in realtà un fint Madrid. Nel 2007 viene trovato dal CEO del Milan in un ovetto kinder. Così inizia a giocare di nuovo per una squadra italiana. Per festeggiare inaugura la stagione con una partita con il suo bel pallone d'oro. E si fa malissimo di nuovo. Torna in Brasile e comincia a giocare con il Corinthians. Ma all'improvviso nel febbraio 2011 Roberto Vecchioni vince Sanremo e Ronaldo, che era un fan dei Modà, per protesta annuncia il suo ritiro dal calcio volando nello spazio durante una partita contro il Santos. Oggigiorno lo possiamo vedere nelle notti di luna piena in orbita attorno alla luna che cerca di finire di mangiare la coppa delle coppe. Ecco, come avrete intuito, avevo sbagliato il Ronaldo. Conosco talmente poco il giuoco del calcio che avevo fatto il Ronaldo vecchio mentre loro volevano il Ronaldo nuovo. Quindi gli ho fatto un altro video bozza che vi faccio vedere adesso. Anche questo era un video scartato e mai utilizzato. Cristiano Ronaldo Don Santos della Vega Hombre Sombrero Tacos Aveo. nasce a Portogallo nel 1985, non in Portogallo, ma a Portogallo, una città portuale in provincia di Foggia. La giovane pratica molti sport, tra i quali la corsa sui cocodrilli e il violino da combattimento. Ma è nel 1997 che scopre la sua vera vocazione, la quale sembrava scritta nel suo nome Cristiano Ronaldo, e infatti si fa prete. Al seminario gioca sempre a calcio nei momenti liberi. Nel 2003 però calcia talmente forte che la palla attraversa la manica e finisce in Inghilterra. Il povero Cristiano va a Manchester per prenderla, ma dei bulli inglesi lo ricattano dicendogli che se rivuole la sua bella palla dovrà giocare per la squadra di calcio del paese. Cristiano risponde, va bene, ma in cambio voglio 12,24 milioni di sterline. Il tizio inglese accetta ed è così che Cristiano Ronaldo inizia la sua carriera nel Manchester United. Durante la sua presenza nella squadra fa un sacco di gol grazie soprattutto ai suoi due occhi che gli donano una vista 3D e grazie a ciò un ottimo senso della posizione della porta avversaria, a differenza del suo rivale storico Barba Blue. Nella stagione 2007-2008 supera il record di 33 gol in campionato che era precedentemente detenuto da George Best, rubandogli così il titolo di Best e diventando Cristiano Ronaldo Best lasciando a George solo il nome di battesimo. Nel 2008 il Manchester grazie a lui vince la Champions League, la Premier League, la Coppa del Mondo e perfino la gara per la zucca più grande della Sagrada e della zucca di Sant'Oresta in provincia di Frosinone. In virtù di questi multipli successi si aggiudica dunque il palone d'oro, la scalpa d'oro e il number per la fisica. Viene eletto inoltre FIFA World Player 2008, cosa che gli dona il superpotere del volo. Nel 2009 il Real Madrid paga la cifra più alta della storia del calcio mercato al Manchester United per trasferire Ronaldo, 94 milioni di euro. Così Cristiano Ronaldo viene messo in una scatola e spedito a Madrid. Con il club spagnolo negli anni successivi vince una Liga, una Supercoppa Spagnola e una Coppa del Re. Poi il Re se ne accorge e la rivuole indietro. Nel 2014 fonda una nazione chiamata Ronaldia, di cui è l'unico abitante. Con la nazionale della Ronaldia, composta da lui nove cartonati di Britney Spears e un orso, si qualifica ai mondiali. Durante il mondiale 2014 arriva in finale, ma per colpa dell'inesperienza dell'orso in nazionale perde 19 a 1. Dopo questa bruciante sconfitta, Cristiano Deluso si ritira dal calcio professionale per sempre. Nel 2016 viene contrattato da Michael Jordan per una squadra per un nuovo sport ibrido. Dal 2017, infatti, inizia a giocare nella prima squadra di calciasche tennis, insieme a Michael Jordan, Federer e Massimo Boldi. Purtroppo, però, durante la sua prima partita i suoi compagni preti scoprono che era scappato dal seminario 20 anni prima e lo rinchiutono nella prigione dei traditori, dove morirà all'età di 300 anni. Ecco, che cosa abbiamo imparato da tutta questa storia? Che non avevo un video pronto e volevo pubblicare questi. Leggete Scottex Magazine, ciao!